I nostri spettatori abituali sono abituati alle nostre guide finanziarie, in modo che possiate, se potete, investire il vostro denaro in modo appropriato, ma ci occupiamo anche di guide immobiliari, ci occupiamo dell'ultima grande campagna di assicurazione sulla casa e ora potete scoprire cosa sono i bitcoin e cosa significano effettivamente nel mondo di oggi, perché sono così importanti e così caldi. Ci raggiunge in studio Attila Vidakovic, fondatore di Mosaic Alpha ed esperto di blockchain. Buongiorno, ciao. Buongiorno, allora parliamo innanzitutto di cosa sono esattamente i bitcoin. Il bitcoin stesso è uno strumento decentralizzato, una valuta che è stata creata per fornire un'alternativa al denaro tradizionale, perché non ha una governance centralizzata e completamente democratica, quindi tutte le regole sono votate dalla comunità degli utenti e ciò che troviamo interessante è che al momento non funziona come strumento di pagamento, non sappiamo se lo farà mai, ma funziona più come strumento speculativo, come riserva di valore, come l'oro. Cosa determina il valore del bitcoin stesso? Beh, le aspettative, la fiducia in esso, ma ci sono valori reali dietro di esso, quindi il bitcoin è molto difficile da produrre e il fatto che sia difficile da produrre lo rende prezioso, perché chi lo produce vuole ottenere un profitto. Quando si estrae l'oro questo ha un costo e si vuole un profitto, quindi nel lungo periodo non lo si farà di certo se non è redditizio, quindi si fisserà sempre un prezzo, quindi la produzione stessa costa. Tra l'altro di solito si dice che la sicurezza offerta dal bitcoin sia infrangibile e non rintracciabile, ma non è vero, quindi non si può dire che ci sia una sicurezza al 100%, ma si può dire che nell'informatica, in altre parole nella tecnologia di codifica, non c'è un livello di sicurezza più alto di quello offerto dalla tecnologia blockchain. Quindi, se ho il mio denaro lì, è mio, non può essere portato via, non può essere derubato, non può essere confiscato, è certamente mio, se gestisco il mio portafoglio da solo. Se dico che ho un surplus di denaro e voglio investirlo, potete aiutarmi con il bitcoin o come si presenta in pratica? Possiamo aiutarvi a capire come fare, ma come consulente per gli investimenti non vi aiuteremo. Si tratta di un mercato estremamente rischioso, con oscillazioni di prezzo pazzesche, ma ovviamente questo rischio comporta un potenziale di rendimento elevato. Ma nessuno deve credere che qui si possano fare molti soldi senza rischi. Come ottenere bitcoin? Quindi, una delle cose che ho detto è che io produco bitcoin, lo estraggo, ho bisogno di un livello non molto alto di conoscenze informatiche che si possono ottenere in una o due settimane e posso comprare bitcoin dagli scambiatori ufficiali, ce ne sono in Ungheria e in tutto il mondo, e il mio amico, se vuole vendere bitcoin, posso comprarlo da lui. Lei ha detto che al momento non si tratta di una forma di valuta come ad esempio i contanti o il denaro. Se investo ad esempio patta in un po' di bitcoin e non diventa un mezzo di pagamento ho ancora la mia ricchezza, quindi ci si dovrebbe preoccupare di che tipo di investimento sia in questo senso. Si tratta di un investimento rischioso in quanto non possiamo dire quanto varrà. Ovviamente chi lo detiene spera che il suo valore salga. Tuttavia, oggi possiamo dire che è molto liquido, quindi posso venderlo in qualsiasi momento al tasso di cambio corrente, posso venderlo molto facilmente ed è molto economico comprarlo. Mentre se compro l'oro, per esempio, c'è un costo di gestione molto alto e c'è anche un costo di gestione molto alto quando lo vendo. Quindi devo aspettare molto tempo per essere compensato dal tasso di cambio del mercato. Con il bitcoin non c'è questo problema. Se voglio venderlo, posso venderlo esattamente al suo valore. Potrebbe essere questo il futuro? O quanto futuro vedete al momento? Da un punto di vista tecnologico è certamente il futuro, perché ormai si è infiltrata in molti settori, per cui ora le banche tradizionali e persino gli stati stanno costruendo le loro nuove valute digitali su questa tecnologia, per cui la tecnologia può essere considerata un fatto del futuro. Ci sono idee su come e in che modo la stessa finanza decentralizzata si diffonderà in futuro. E non posso immaginare che il mondo finanziario tradizionale sarà spazzato via dal tavolo, ma sembra avere una ragione di essere in molti settori e per molti utenti. E questa potrebbe essere una buona soluzione. Diciamo che c'è una persona di talento in Africa che potrebbe fornire un servizio via internet, non ha una banca, non può farlo, il bitcoin può risolverlo, così può ottenere valore per il suo lavoro d'ora in poi. E poi si potrebbero elencare molti, molti altri esempi, perché sentiamo di stati che vengono bloccati dai sistemi di pagamento. È successo con la Russia, è successo con paesi democratici come il Canada. Sembra che, sto scherzando, stiano bloccando i conti bancari solo perché stanno finanziando una protesta o stanno finanziando un'associazione di beneficenza. Quindi ci sono molte situazioni in cui questa potrebbe essere una buona soluzione. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie mille.